Siamo a Perrero e a visitare una delle scuole che hanno aderito al concorso scuole. Il concorso scuole questo anno fa trasformare Piazza Polonia di fronte a Regina Margherita in Piazza Lapponia grazie al lavoro di questi bambini. Quindi loro, un'arena e una slitta ci porteranno il 3 dicembre di fronte a Regina Margherita. Non è il primo anno che questa scuola partecipa al concorso? No, questa scuola ha una storia. Questa scuola ha fatto dal 2014, ha partecipato al concorso per le scuole. Quindi loro sanno bene tutti i nostri, la Cassetta, la Mole, il Babbo Natale. E loro hanno scelto questo anno di fare la slitta e l'arena perché non l'avevano ancora fatta.